Grazie a tutti Me lo dicono sempre tutti Senta Ha problemi con la fide? Ma di questa difficoltà ne ha parlato con qualcuno? No, con nessuno E che lavoro fa? Cosa faccio? Sì Io non capisco perché non si può fare una squadra solo dell'Italia No, no, no Voi italiani giocate o nella squadra dell'Europa A o nella squadra dell'Europa B Per cortesia non mi scardinate questa griglia che ci ho lavorato tutta la notte Propenderei addirittura per partite di andata e ritorno No, andata e ritorno no Moriamo No, andata e ritorno no No, andata e ritorno no